buonasera 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 a tutti siamo qui a un nuovo appuntamento con ccap live siamo qui con veronica padovani e cesare papazzoni che ora vi presenterò con calma intanto vi ringrazio tutti per essere qui ringrazio veronica e cesare grazie a voi averci invitato e voglio fare un piccolo un piccolo cappello introduttivo perché è possibile che oggi ci siano persone che non conoscono il ccap quindi facciamo una piccolissima presentazione il ccap il ccap è il comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudo scienze fondato da piero angela nel 1989 spero di ricordare giusto con un sacco di altre persone importanti un sacco di altri nomi importanti che in questo momento non mi sono segnato quindi portate pazienza quello che noi facciamo è cercare di portare lo spirito critico e il pensiero scientifico in giro e cerchiamo di aiutare per quanto possiamo con con le nostre forze con la divulgazione della scienza con la divulgazione appunto del metodo più che della scienza in sé cioè più che solo della scienza in sé per sé cerchiamo di appunto promuovere lo spirito critico penso sia spero sia comprensibile quello che ho detto perché non ne sono certo ma andiamo avanti intanto vi ricordo che potete come c'è scritto in sovraimpressione iscrivervi al canale cliccare la campanellina per avere le notifiche quando ci sono eventi live ma anche quando escono tutte le conferenze che vengono messe sul canale e tante altre cose esce anche il nostro podcast sul canale ma lo trovate anche su tutti i canali di distribuzione di podcast siamo su tutti i social abbiamo un canale telegram stanno mettendo tutto in sovraimpressione quindi forse sono ridondante però seguiteci sui social venite a trovarci anche quando ricominciamo a fare eventi dal vivo di persona adesso andiamo a introdurre invece il tema della serata perché sennò parlo solo io e non è bello ma allora siamo qui con veronica padovani e cesare papazzoni veronica padovani è un'educatrice scientifica si occupa di divulgazione della paleontologia delle geoscienze queste bellissime cose qui ha collaborato un sacco col cicap collaborato il cicap emilia romagna e fai un sacco di cose veronica quindi intanto ciao grazie per essere qui ciao grazie a te ciao di nuovo perché poi mi sto ripetendo mentre cesare papazzoni che è laureato in scienze geologiche ricercatore all'università di modena reggio emilia e insegni lì biostratigrafia applicata paleontologia ed evoluzione dei vertebrati esatto ho capito metà ma allora paleontologia ed evoluzione dei vertebrati intanto buonasera a tutti paleontologia ed evoluzione dei vertebrati è il corso che faccio per la laurea magistrale in comunicazione della scienza ed educazione comunicazione della scienza quindi una laurea che serve per formare i nuovi insegnanti e per formare anche i divulgatori quindi direi che ci siamo come come argomenti siamo centrati invece la biostratigrafia applicata è quello che faccio nel corso di laurea magistrale in geoscienze geo rischi geo risorse che la nostra laurea magistrale diciamo così dedicata alle scienze geologiche e riguarda la datazione delle rocce sostanzialmente per mezzo dei fossili in particolare di micro fossili quindi è qualcosa che poi viene utilizzato nel anche nella nell'industria petrolifera nelle perforazioni per le mappe geologiche applicazioni della paleontologia in campo un pochino più ampio direi abbastanza interessante e voi siete qui oggi per parlare con noi di dinosauri allora faccio una un'ulteriore piccola premessa adesso proprio sul tema quando noi abbiamo cominciato a organizzare questa serata non c'è stato non c'era ancora nessun cantante italiano che aveva parlato di dinosauri in televisione dicendo che l'uomo aveva credo abbia detto che abbia ucciso o comunque sterminato qualcosa del genere di un saluto estinto proprio li abbiamo estinti prima cosa mi dite per piacere facciamo chiarezza su questa cosa che distanza temporale c'è tra l'uomo e dinosauri comprovata da dalle prove scientifiche immagino peraltro dunque questo è abbastanza semplice da determinare perché i dinosauri intendendo i dinosauri non aviani e adesso lasciamo perdere ci arriviamo dopo e si sono estinti 66 milioni di anni fa l'uomo moderno cioè la nostra specie è datata al massimo circa 300 mila anni quindi diciamo che ci sono almeno 65 milioni e 700 mila anni di distanza tra l'uomo moderno e i dinosauri se vogliamo andare con gli ominidi più antichi ma proprio andando molto molto indietro possiamo arrivare a 6 milioni di anni quindi diciamo ce ne sono 60 di milioni di anni tra i nostri antenati più antichi e i dinosauri siamo parecchio distanti parecchio sì sì un'altra un'altra cosa sempre per per togliere poi l'argomento albano perché insomma sappiamo che è stato lui a raccontarci queste cose un'altra cosa che mi sembrava interessante che ha detto che forse il caso di chiarire è che lui ha fatto un ragionamento tipo che il meteorite che avrebbe ucciso i dinosauri è caduto nello yucatan ci sono che che è in messico per capirci ci sono delle tracce dinosauri in puglia in puglia non è caduto nessun meteorite e quindi non c'è una correlazione tra le due cose da come la dice lui allora alcune cose sono giuste altre altre no allora è giusto che il meteorite è caduto nello yucatan è un meteorite molto grosso è giusto che ci sono delle orme di dinosauro in puglia anzi sono alcune delle piste più abbondanti che abbiamo in europe quelle che ci sono in puglia è però non è giusto che la puglia e lo yucatan non abbiano niente in comune anche perché se togliamo un attimo dalla puglia e alziamo un attimo lo sguardo sull'italia l'italia è il posto nel quale è stato scoperto è stata scoperta la prima traccia del meteorite che ha estinto i dinosauri quindi noi siamo nel paese dove è stato scoperto il l'impatto meteoritico prima che si trovasse il cratere nello yucatan a gubbio in particolare sono stati trovati dei degli elementi è stato trovato in particolare un livello ricco di ridio che è stato il primo ad essere scoperto al mondo che è il risultato della polvere sollevata dalla distruzione del meteorite e dall'impatto conseguente quindi noi in italia abbiamo le tracce del meteorite che poi si è stato trovato in tutto il mondo perché questo impatto è stato talmente forte da lasciare le sue tracce non solo vicino al punto dell'impatto che è quello appunto dello yucatan ma in tutto tutto quanto il globo il livello ricco di ridio lo si trova ovunque nel mondo e la prima volta è stato scoperto per caso tra l'altro mentre si cercava tutt'altro è stato trovato questo livello di ridio e lì alvarez padre e figlio hanno pubblicato un famoso lavoro nel 1980 nel quale ipotizzavano ipotizzavano che ci fosse stato un impatto non sapevano ancora dove cercare il cratere ma grazie a questo studio è cominciata tutta la storia dell'impatto extraterrestre e del collegamento con l'estensione dei dinosauri ok quindi siamo abbastanza sicuri di cosa è successo più o meno dai sul quando anche abbastanza mi pare di capire perché sappiamo quando ci sono estinti e quindi diciamo che forse possiamo pensare che sia stato abbia giudicato male quello che ha visto il nostro caro Albano noi però appunto abbiamo dei fossili di dinosauri abbiamo delle orme fossili che sono state scoperte di recente giusto? non sono cose che possono aver dato origine a miti e leggende precedenti nel passato diciamo nei tempi antichi? beh no in Italia in realtà i ritrovamenti di dinosauri sono relativamente recenti e quindi non possiamo dire che i vari miti di mostri o le varie superstizioni legate ai fossili in Italia siano legate specificamente ai resti di dinosauri ad esempio le impronte del diavolo che si possono trovare nelle Dolomiti sono in realtà fossili o calchi di conchiglie di megalodonti che sono fondamentalmente delle conchiglie però è pur vero che ci sono racconti di draghi e di animali mostruosi in tutta l'Italia che possono essere recondotte ai fossili queste ossa però non sono ossa di dinosauro in alcuni casi probabilmente erano ossa di orsi delle caverne quindi grandi crani con denti puntiti allungati in altri casi un animale mostruoso e con lunghe danne che appartiene al mito e che probabilmente era legato ai ritrovamenti di un fossile è quello di Polifemo, dei ciclopi però anche in questo caso non abbiamo dinosauri ma abbiamo elefanti, elefanti nani peccato perché insomma le storie dei dinosauri dei miti scattoliti dei dinosauri sono belle se ricordo bene ne abbiamo anche forse parlato Veronica in un'occasione avevamo parlato in un podcast con anche Lorenzo Rossi sì, mi sa di sì e ti ricordi qualcuno di quelli di cui avevamo parlato? c'era vagamente credo ci fosse l'origine del grefone avevamo parlato dell'origine del grefone che in realtà è una teoria forse un po' controversa nel senso che è difficile stabilire in questo caso se è arrivato prima l'uovo o la gallina cioè sono i fossili di dinosauri in particolar modo i fossili di protoceratops del deserto del Gobi ad avere dato origine al mito dei grifoni oppure quando antichi viaggiatori o minatori si sono imbattuti nelle ossa di protoceratops di Psittacosauro che era un dinosauro che aveva un becco molto grande ma un corpo che forse le ossa del corpo forse potevano ricordare quelle di un mammifero o di un leone quindi se questi viaggiatori conoscendo a priori il mito del grifone che è appunto un animale metà aquila con la testa d'aquila il corpo di leone vedendo poi i resti dei fossili di Psittacosauro hanno detto ah vedi questo qui è un grifone infatti era fatto così 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 quindi è abbastanza difficile determinare se è il mito a essere stato riconosciuto sulla base dei fossili o se sono stati i fossili a determinare informare il mito. Quindi di fatto qualcuno ha trovato un dinosauro non sapeva cosa fosse o gli ha ispirato qualcosa o era già ispirato dalle leggende e ha letto il dinosauro così però a questo punto mi collego a una domanda che ci arriva da chi ci sta seguendo su youtube che rivolgo a te Cesare e immagino sia una domanda a cui potremmo rispondere per alcune ore cerchiamo di stare più brevi. Francesco De Vivo ci chiede, si dice buonasera buonasera Francesco volevo sapere cosa fa un paleontologo e come si scopre un nuovo dinosauro. Allora cosa fa un paleontologo? Intanto un paleontologo fa tante cose tra cui ci sono alcuni paleontologi che lavorano anche sui dinosauri e quindi non diciamo che i paleontologi non lavorano soltanto sui dinosauri come abbiamo anche accennato prima la paleontologia può darci delle informazioni che ci servono per tante altre cose studiando dei fossili diversi dai dinosauri e quindi un paleontologo studia i fossili in generale. Studia i fossili in generale e può studiare anche tra le altre cose anche i dinosauri. Ovviamente in Italia noi non abbiamo una grandissima tradizione di paleontologi che studiano i dinosauri perché in Italia i dinosauri sono stati scoperti meno di 30 anni fa. All'inizio degli anni 90 si è scoperto che anche in Italia potevano esserci dei dinosauri mentre prima si pensava che non potessero esserci perché si pensava che l'Italia fosse stata sempre coperta dal mare per tutto il Mesozoico, per tutta l'epoca dei dinosauri. Ma in questi ultimi 30 anni diciamo che ci sono stati tanti giovani e meno giovani paleontologi che hanno lavorato anche sui dinosauri andandoseli a cercare in qualche caso andandoli a cercare fuori dall'Italia perché in realtà è più facile trovarli in posti dove sappiamo già che ci sono, per esempio il deserto del Gobi a cui ha accennato anche Veronica e quindi i paleontologi si muovono, insomma vanno anche fuori dal nostro paese, è un mestiere che non ha un confine geografico preciso e perciò noi possiamo, abbiamo la fortuna, la possibilità di andare in tanti paesi diversi e quindi se li può andare a cercare oppure se li può anche far portare i dinosauri, può studiare del materiale che è stato trovato da qualcun altro che può essere un altro paleontologo, un appassionato, qualunque persona che va a cercare o trovare dei fossili può trovare in determinate condizioni un dinosaurio e poi il paleontologo è quello che lo va a studiare e a cercare di ricostruire che cos'era, quindi cerca di dargli un nome e cerca anche di ricostruire tutto quello che gli stava intorno e tutte quelle che sono le caratteristiche della vita di questi dinosauri, quindi noi cerchiamo in qualche modo di riportarli in vita i dinosauri, questa è una cosa molto importante perché ci permette di dire tante cose e ci permette anche di sperimentare tanti modi per studiare dei fossili anche molto vecchi. Un altro posto dove si possono trovare facilmente i dinosauri è nei musei, nei musei non solo quelli che sono esposti ma soprattutto nelle collezioni dei musei a volte ci sono dei reperti che non sono stati riconosciuti o non sono stati studiati e quindi molto del lavoro che fanno i paleontologi si svolge all'interno dei musei andando a vedere i resti originali, non le copio ovviamente quando ci sono gli originali. A volte può succedere anche che le copie siano state perse e che gli originali siano stati persi e che quindi ci siano soltanto rimaste le copie e si può lavorare malamente anche sulle copie, però ovviamente è molto meglio avere il materiale originale. Allora ci è arrivata anche un'altra domanda da un giovane spettatore perché ovviamente il tema dei dinosauri richiama un sacco di pubblico anche più giovane e quindi un giovanissimo spettatore ricchi di sette anni ci fa una domanda che secondo me è interessante e un'altra di quelle domande per cui potremmo parlare per ore. Ricci ci chiede quanti dinosauri c'erano? Quanti dinosauri c'erano? A livello di diversità si possono dare diverse risposte? Immagino sì a livello di diversità perché... La risposta che posso dare io che però poi passo direttamente la palla Cesare è molti più di quanti ne conosciamo, di diversi ordini di grandezza probabilmente. Sì, il problema è che i fossili sono una... La fossilizzazione è una cosa estremamente rara, cioè succede poche volte che si conservino le tracce degli animali morti. Gli animali morti normalmente vengono riciclati, la natura è molto efficiente nel riciclare la materia e quindi nel riutilizzare la materia che compone i corpi degli animali e anche delle piante. E quindi normalmente i corpi vengono distrutti dai decompositori e ritornano nel ciclo della vita. Quindi noi in realtà conosciamo soltanto una piccola parte di quelli che sono i dinosauri che sono esistiti nel tempo. Dare un numero è difficile anche perché ne vengono scoperti continuamente dei nuovi dinosauri e quindi avere una stima del numero è abbastanza complicato. Di sicuro siamo nell'ordine di qualche migliaio di specie che sono oggi conosciute. Poi ci sono tutti i dibattiti tra gli specialisti che non sono mai d'accordo gli uni con gli altri su quante specie effettivamente esistono, perché poi è difficile anche capire se i resti che troviamo sono di specie diverse o sono magari individui più giovani, meno giovani della stessa specie. Questo è successo tante volte nel corso del tempo che sono stati trovati dei resti fossili a cui sono stati dati dei nomi e poi questi nomi sono stati cambiati perché si è scoperto che magari erano gli esemplari giovani di un dinosauro che già si conosceva, quindi sono stati attribuiti a una specie che in realtà non esisteva perché erano semplicemente i giovani della stessa specie. Non sappiamo se i dinosauri avessero uno spiccato di morfismo sessuale, cioè se i maschi e le femmine fossero diversi tra di loro. Noi sappiamo che molti animali hanno il maschio e la femmina che sono diversi tra di loro, ma questo dipende dagli animali. Nei mammiferi è abbastanza comune, nei rettili un po' meno e riconoscere il maschio e la femmina su degli scheletri di solito incompleti è piuttosto difficile e quindi anche su questo diciamo che il dibattito è molto aperto e la quantità di specie risente anche di queste incertezze che ci sono. Sì, leggevo appunto poco tempo fa che uno dei dinosauri di cui mi è venuto in mente che si sarebbe potuto parlare questa sera per quanto riguarda la varietà dei dinosauri e i tanti nomi che vengono dati ai dinosauri, ognuno dei quali ci informa un po' a volte su come sono fatti, a volte da dove provengono, a volte da chi li ha studiati, oppure a volte sono in onore di famosi libri per bambini e non solo per bambini, tipo Harry Potter. In particolar modo il dinosauro Dracorex o Guarzia, che è stato recentemente così chiamato in onore della saga di Harry Potter, quindi re Drago di Hogwarts, e dei bambini del Museo di Indianapolis. Leggevo che questo dinosauro in realtà altro non sarebbe che una forma giovanile di Pachycefalosauro, e che quindi le spine del cranio in realtà con il tempo si sarebbero fuse, si sarebbero trasformate nella tipica calotta cranica dei Pachycefalosauri. Lo stesso per un altro dinosauro, che è un nome affascinantissimo anche se è un bel po' più classico, che è Stigimoloch spinifer, il diavolo dello stige portatore di spine, e anche lui apparentemente sarebbe un esemplare sempre giovanile, sempre di Pachycefalosauro, appunto perché queste spine che caratterizzano il cranio in realtà poi con l'età adulta si sarebbero fuse, spessite e avrebbero dato origine a un cranio molto più spesso. Quindi sì, ecco, di tre dinosauri in realtà apparentemente abbiamo soltanto uno e due giovani. Continuano le domande dei più giovani, e sembra che abbiano peraltro tutti i sette anni, perché arrivano due domande. È l'età in cui ne sanno molto più di noi, tra l'altro. Sì, sì, c'era un meme. Non sempre molto preoccupato io dalle domande dei bambini di sette anni. C'è un meme che gira con le punte, gli apici. La gaustana su quanto ti è esperto in dinosauri. Il picco è ai sette anni. Forse dai cinque ai sette, però sì. Un po' meno quando si è paleontologi, e di più quando si è genitori di bambini di questa età. Però, allora, abbiamo due domande che sono anche abbastanza collegate in un certo senso, e le mando avanti perché secondo me meritano. Allora, Lorenzo, di sette anni, appunto, ci chiede, ve le faccio collegate, ci chiede a che profondità bisogna scavare per trovare un dinosauro, e invece Andrea, sempre di sette anni, che ci chiede come si sono creati i fossili dei dinosauri. E queste diciamo che in un modo o nell'altro si collegano abbastanza facilmente, penso. Quindi, Cesare, vuoi lì? Ci vorrebbe un paleontologo. Ci vorrebbe un paleontologo per dire questa cosa. Allora, intanto scavare, sì, bisogna scavare spesso, ma non sempre. Diciamo che i dinosauri noi li conosciamo perché le loro ossa le vediamo sul terreno. cioè le vediamo in superficie, almeno inizialmente, le troviamo in superficie e poi scaviamo per andare a toglierle dalla roccia che le contiene. Quindi, in realtà, non dobbiamo scavare tantissimo per trovare un dinosauro perché andiamo in posti dove i dinosauri sono già vicini alla superficie. In realtà, di dinosauri sottoterra ce ne saranno chissà quanti, ma noi non li vediamo e finché non li vediamo, per noi non esistono, non ci sono. Ci sono dei luoghi dove le rocce sono state sollevate dai movimenti della crosta terrestre e questi dinosauri che erano seppelliti a profondità anche di qualche chilometro sottoterra sono stati riportati vicino alla superficie e poi l'erosione ha tolto la roccia che stava al di sopra e adesso noi possiamo vederli comodamente sul terreno o sul pendio di una montagna o sulla superficie del deserto del Tenerè in Africa, per dire. Ecco, questo è dove li troviamo adesso. Quindi adesso noi non dobbiamo scavare tanto per trovarle, ma dobbiamo scavare più che altro per raccogliere le ossa facendo molta attenzione a come sono disposte le ossa. Quindi è importantissimo sapere come erano le ossa, come erano disposte originariamente nel luogo dove sono stati trovati i resti e le ossa che noi troviamo oggi sono di solito trasformate rispetto a quelle che erano le ossa originali perché sono state in qualche modo irrobustite dai minerali che sono andati a sostituire a una parte dell'osso vero e proprio. Questo succede quando appunto i resti sono seppelliti sottoterra, quindi dal fango, dalla sabbia, da qualunque tipo di sedimento e poi pian piano vengono ad essere schiacciati sotto il peso dei sedimenti e portati in basso sottoterra. Quando si trovano all'interno della Terra le ossa possono subire due destini diversi. Uno, per stare su un estremo, è quella di essere completamente distrutte, sciolte dalle acque che circolano nelle piccoli spazi che ci sono tra un granello di sabbia e l'altro, per dire all'interno della roccia circola sempre qualche soluzione di acqua contenente anche dei minerali, a volte quest'acqua scioglie e porta via e distrugge tutto, altre volte l'acqua può invece depositare dei sali minerali, un po' come fa l'acqua, il calcare che si deposita nei nostri rubinetti o nella lavatrice che formano quelle incrostazioni. La stessa cosa succede nelle ossa sepolte sottoterra, che quindi diventano più resistenti e quando vengono in superficie noi possiamo riconoscerle e anche separarle dalla roccia più facilmente. Quindi le due cose sono collegate tra di loro, il fatto di scavare e appunto il procedimento di fossilizzazione, lo chiamiamo, che è quello che ci porta ad avere poi i fossili che noi troviamo e che poi possiamo ammirare nei musei. Ok, adesso andiamo un po' avanti perché c'erano un sacco di cose che ci eravamo segnati di dire e cominciano effettivamente anche a chiedercele. Quindi prima di passare ad altre domande che ci stanno arrivando introduciamo un po' un altro passaggio che secondo me è fondamentale per mantenere un filo, diciamo. I dinosauri sono dei sauri e soprattutto cosa vuol dire? Veronica, ce lo vuoi raccontare? Allora, sui sauri e su che tipo di sauri siano io decisamente lascerei la parola al professor Papazzoni, ma per quanto riguarda su che cosa vuole dire la parola dinosauri, invece una parola la posso dirla io, è un termine relativamente recente, nel senso che è un termine che è stato coniato da Sir Richard Owen nel 1841 ed è una parola che deriva dal greco, dal greco Deinos e Sauros, quindi lucertola terribile, perché Sir Richard Owen, che era un paleontologo inglese, riconobbe il fatto che questi resti che in realtà in Gran Bretagna vengono trovati abbastanza abbondantemente, molto più abbondantemente che in Italia, erano dei rettili, ma riconobbe che nei vari ritrovamenti di questi rettili che erano stati fatti in Gran Bretagna c'era una particolare conformazione delle vertebre e quindi li raggruppò tutti in un gruppo che chiamò Sauri, sì, ma lucertole, sì, Sauri, sì, ma terribili, quindi un gruppo a sé stante. E tra l'altro, dopo averli battezzati come dinosauri, Sir Richard Owen ha anche il merito di averne commissionato la prima rappresentazione in forma di scultura, ma di questo forse ne parleremo più tardi. Sono Sauri, i dinosauri. Sono Sauri, sì, perché li chiamiamo così, sono Dinosauri, sono lucertole terribili, ma in realtà non sono lucertole, ecco, sono dei rettili che sono su una linea evolutiva diversa da quella delle lucertole e dei varani, tanto per... Lucertole e varani sono un gruppo abbastanza omogeneo, quindi un gruppo che ha un antenato comune, che però è diverso da quello dei dinosauri. I dinosauri fanno parte di un grande gruppo che è quello degli arcosauri, che comprende anche, per intenderci, i coccodrilli e i rettili volanti, gli pterosauri, sono tutti quanti arcosauri che hanno come caratteristica quella di avere le zampe disposte in un modo diverso rispetto a quello delle lucertole. Se voi pensate un attimo a come si muove una lucertola e guardate dove tiene le zampe, la lucertola tiene le zampe molto distanti dal corpo e le tiene sollevate lateralmente e quindi si muove in un modo che noi troviamo abbastanza scomodo. Se provate a muovervi con le braccia piegate a 90 gradi vi rendete conto di quanto sia scomodo camminare e passeggiare in quel modo lì. È quello che fanno le lucertole ed è l'andatura diciamo così primitiva di tutti gli animali che vivono sulla terra ferma. Gli arcosauri invece hanno le zampe che vanno a finire sotto al corpo e a formare una linea verticale anziché due linee una spezzata che va prima verso l'esterno e poi verso il basso abbiamo le zampe che vanno direttamente sotto al corpo come quelle che possiamo osservare tanto per intenderci in una gallina o in un piccione le zampe sono dritte sotto il corpo e la stessa cosa avviene per i dinosauri i coccodrilli hanno un'andatura un po' intermedia ma anche loro riescono ad alzarsi sulle zampe e a camminare abbastanza dritti rispetto alle lucertole quindi questo grande gruppo che comprende i dinosauri e i coccodrilli è quello degli arcosauri che è separato appunto dalle lucertole e quindi i dinosauri tecnicamente non sono lucertole anche se i primi dinosauri appunto come diceva Veronica erano stati paragonati alle lucertole e l'iguano donte che è uno dei primi che proprio vengono riconosciuti in Inghilterra era così chiamato perché aveva dei denti simili a quelle delle iguane moderne ed era rappresentato come un'iguana solo di dimensioni molto più grandi questa era la la ricostruzione che si poteva fare con i pochi resti che si avevano a disposizione e anche di questo credo ne parleremo quando si hanno pochi elementi le ricostruzioni risentono molto della fantasia quando se ne hanno tanti si possono precisare meglio le cose penso di avere detto direi abbastanza abbastanza ci arrivano un sacchissimo di domandissime di un sacco di persone un sacco di cose ci chiedono cose di cui volevamo già parlare cose molto specifiche ovviamente un bambino di 8 anni Riccardo ci fa una domanda molto specifica peraltro su un dinosauro che poi avremmo comunque nominato quindi adesso preparatevi secondo me so anche qual è brava Riccardo di 8 anni ci domanda lui la chiama spina dorsale comunque quella cresta che aveva lo spinosauro e quella del dimetrodonte che funzione avevano? dimetrodonte eccolo lì il dimetrodonte grazie per la diapositiva allora intanto grazie Veronica per la diapositiva il dimetrodonte purtroppo non è un dinosauro dimetrodonte so di dare una delusione ma il dimetrodonte è un rettile sinapside ed è interessante perché anche se nessuno se lo può immaginare è un antenato dei mammiferi in realtà i sinapsidi sono gli antenati dei mammiferi quindi sono su una linea che porta a noi questi anche se il dimetrodonte ovviamente ha fatto una strada un po' diversa dalla nostra ma nel caso del dimetrodonte e di altri rettili che hanno queste specie di vele sulla parte superiore del corpo quali fosse la funzione in realtà noi non lo sappiamo con certezza ma ci sono delle ipotesi abbastanza diciamo plausibili e la più plausibile è quella che queste strutture venissero usate come regolatori termici cioè come regolatori della temperatura queste vele sono di solito degli elementi dove sembra che squaresse anche il sangue ci fossero delle delle tracce di attività vascolare che permettevano al sangue di circolare abbondantemente in queste strutture e questo vuol dire che potevano essere usate per disperdere il calore o per viceversa assorbirlo se noi immaginiamo l'animale che si mette con la vela di fronte al sole questo può servirgli per acquistare temperatura per aumentare la propria temperatura alla mattina per esempio quando dopo la notte al freddo deve riscaldarsi per cominciare la sua attività si mette con la vela esattamente perpendicolare ai raggi solari e assorbe calore viceversa se si mette durante le ore centrali della giornata con la vela di taglio può disperdere il calore questo è un modo per aumentare la superficie del corpo senza aumentare le dimensioni del corpo si aumenta la superficie è un po' quello che succede nei motori dove ci sono le alette che servono per disperdere il calore al posto del radiatore sono degli elementi che aumentano la superficie in rapporto al volume del corpo e quindi possono essere utilizzate come regolatori termici in animali abbastanza grandi e probabilmente con metabolismo abbastanza lento questi potevano essere dei mezzi abbastanza efficienti per poter regolare la temperatura senza avere una regolazione interna della temperatura stessa mi sembra chiaro io spero che chi ci sta guardando abbia capito almeno più di me però era chiaro era facile rimanendo su questi nostri spettatori molto giovani ci sono non è una domanda ma ce lo dicono e secondo me magari due parole le possiamo spendere ci sono Giovanni di 6 anni e Luca di 4 anni che ci salutano e ci dicono di essere appassionati di Mary Henning che cosa molto bella visto come ci fanno felici gli accademici è bellissimo è bellissimo vedere che bambini di 4 e quanti 6 anni 4 e 6 anni conoscono Mary Henning è veramente fantastico c'è fior fiore di studiosi li amo già veramente perfetto volete spendere due parole per descrivere per spiegare anche a chi non la conosce chi è Mary Henning Mary Henning era una paleontologa una paleontologa di età vittoriana che è vissuta in un paese nel sud della Gran Bretagna nel Dorset nel sud dell'Inghilterra e Mary Henning di professione faceva la cacciatrice di fossili cercava scavava restaurava e poi vendeva fossili ma li collezionava anche e in particolar modo fra i fossili di grande importanza fra gli esemplari di grande importanza che scoprì Mary Henning ci sono i vari esemplari di reale scopritrice dei coproliti cioè la persona che identificò i coproliti cioè gli escrementi fossili per quello che realmente sono sì tra l'altro questi coproliti è una cosa abbastanza curiosa perché in epoca vittoriana i coproliti venivano mostrati solo agli uomini ai maschi perché per le donne era ritenuto una cosa assolutamente sconveniente Mary Henning tra l'altro è vissuta a cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo tra il settecento e l'ottocento e è una delle prime paleontologhe in assoluto una cosa donne e uomini sì tra donne e uomini è comunque uno dei paleontologi una delle paleontologhe più antiche che noi che noi abbiamo e ha una storia insomma abbastanza interessante che poi è stata raccontata anche in libri in un libro spendo di Tracy adesso mi scugge il colore chino di perla in inglese si chiama remarkable creatures non mi ricordo più in italiano Tracy Cevallier è un bellissimo romanzo e comunque questa è stata una delle prime a mettere a mettere in luce la presenza degli itiosauri gli itiosauri erano praticamente sconosciuti prima che Mary Henning raccogliesse una quantità incredibile di fossili sulle spiagge appunto del Dorset li raccoglieva lungo la costa e li portava nella sua casa dove poi li vendeva e gli itiosauri si per me sono particolarmente cari perché appunto i itiosauri ne abbiamo anche qui a Modena e quindi è una delle cose che mi che mi fa più piacere ricordare anche la presenza di questa di questa figura molto interessante nel panorama paleontologico della storia della paleontologia era importante parlarne anche perché appunto abbiamo dei piccoli fan dei giovani fan non piccoli di Mary Henning andando avanti visto che ci arrivano un miliardo di domande che ci chiedono in Jurassic Park prima di arrivare a Jurassic Park facciamo le cose per gradi abbiamo fatto il discorso dei sauri c'è l'altra cosa che qualcuno riassumerebbe in maniera molto molto semplice come me i dinosauri erano galline dinosauri non erano galline ma le galline sono dinosauri ah vedi quindi allora prova a spiegarci un po' il sì è un discorso un po' come come funziona come fanno a essere dei dinosauri le galline allora le galline sono tecnicamente dei dinosauri perché tutti gli uccelli non solo le galline ovviamente quindi anche i piccioni i corvi i tacchini e tutti gli uccelli sono discendenti di un ramo dei dinosauri che è quello dei teropodi cioè dei dinosauri carnivori i dinosauri si dividono in due grandi gruppi gli ornitischi e i saurischi e all'interno dei saurischi c'è il gruppo dei teropodi che è quello che comprende i dinosauri più famosi carnivori quindi il tirannosauro l'allosauro e tutti questi grandi predatori in questo gruppo noi troviamo anche gli uccelli che compaiono molto presto l'uccello più antico che noi conosciamo è l'archeopteryx che viene dal giurassico superiore della baviera e che è un perfetto esempio di fossile di transizione tra gli uccelli e i dinosauri ha delle caratteristiche da dinosauro e da e da uccello soprattutto per le piume ma le piume in realtà si è visto che non sono un'esclusiva degli uccelli questo lo sappiamo da pochissimo tempo in realtà da 20-25 anni che conosciamo con certezza una grande quantità di dinosauri con le piume quindi le piume sono qualcosa che non è esclusivo degli uccelli ma che è condiviso anche dai dinosauri e dirò di più perché è uscito recentemente un lavoro sui rettili volanti gli pterosauri che vi ho detto sono un altro ramo degli arcosauri gli pterosauri che sono ancora più anticamente separati dai dinosauri avevano anche loro qualcosa che possiamo chiamare delle piume e quindi le piume precedono addirittura i dinosauri sono qualcosa di un antenato comune ancora più antico che risale a sicuramente più di 240 milioni di anni fa queste sono le nuove acquisizioni che ormai escono quasi ogni giorno delle novità e questa secondo me è una delle più importanti perché prima si pensava che le piume fossero esclusive degli uccelli poi abbiamo visto grazie ai dinosauri cinesi che c'erano tantissimi dinosauri piumati quindi abbiamo detto no le piume non sono esclusiva degli uccelli ma gli uccelli le hanno ereditate dai dinosauri e adesso scopriamo che anche gli pterosauri quindi i rettili volanti avevano delle piume diverse da quelle degli uccelli ma comunque analoghe dal punto di vista strutturale addirittura anche della composizione sembra e quindi che queste piume sono ancora più antiche di quello che noi pensavamo questo è un lavoro uscito due anni fa faccio una piccola parentesi soprattutto per chi per chi quando si potrà di nuovo viaggiare vuole portare magari i bambini a vedere qualcosa che diciamo tre cose che possono interessare in questo senso perché due le nominate e una è solo interessante al museo di storia naturale di Vienna c'è una ricostruzione di un adesso sbaglierò l'accento Deinonychus l'ho detto giusto Deinonychus piumato quindi se volete portare dei bambini a vedere un dinosauro piumato al museo di storia naturale di Vienna c'è c'è anche una ricostruzione in oh mamma non mi viene la parola animatronics grazie Veronica c'è anche un animatronics bello grosso di un allosauro che anche quello piace molto ai bambini e in più sempre per i bambini che vogliono vedere queste cose c'è la possibilità di toccare un osso di dinosauro che di solito non te lo fanno fare e lì c'è proprio un osso con scritto in grande toccatelo questo ha non mi ricordo quanti milioni di anni quindi se volete portare i bambini quello potrebbe essere interessante quindi ci hanno le piume questo lo abbiamo almeno parecchi hanno le piume allora sia gli ornitischi che i sauerischi hanno le piume quindi tutti i dinosauri non soltanto i dinosauri teropodi che sono quelli antenati diretti degli uccelli anche il gruppo degli ornitischi che non ha dato origine agli uccelli ha le piume però non tutti i dinosauri avevano le piume alcuni non le avevano diciamo che è qualcosa che viene mantenuto in alcune linee evolutive e in altre viene perso i saueropodi sembra che non avessero le piume i saueropodi sono i dinosauri dal collo lungo quindi pronto saueri diplodocchi eccetera quelli pare che non avessero nulla di di piumato e anche quelli grandi probabilmente non avevano le piume perché perché le piume hanno come funzione primaria cioè l'origine delle piume è con ogni probabilità legata anche ancora una volta all'isolamento termico cioè al mantenimento della temperatura i dinosauri molto grandi non avevano nessun bisogno di avere un rivestimento anzi forse poteva essere d'impiccio avere un rivestimento perché la loro massa corpore era talmente grande rispetto alla superficie che la temperatura veniva mantenuta costante anche senza bisogno di un rivestimento mentre quelli più piccoli e quindi anche gli uccelli l'avevano per fare un esempio si è visto che ci sono degli antenati del tirannosauro trovate anche quelli in Cina tanto per cambiare che avevano le piume mentre i tirannosauri più evoluti e più grandi pare che non le avessero questa cosa se ci pensiamo è abbastanza simile a quello che succede anche nei mammiferi provate a pensare ai mammiferi piccoli che sono di solito abbastanza ben ricoperti dal pelo se provate a pensare a animali a mammiferi grandi come gli elefanti o i rinoceronti quelli di pelo non ne hanno tanto perché appunto il pelo gli darebbe più fastidi che altro per la regolazione termica e quindi gli animali grandi tendono a non essere ricoperti da piume o da pelo o da altri elementi che servono per la regolazione termica ok adesso andiamo a Jurassic Park perché è richiesto e quindi andiamoci dritti perché in Jurassic Park non avevano le piume mi sa che questa però me lo sa dire Veronica a questo c'è una risposta abbastanza diretta perché questa domanda è stata posta spesso e volentieri a Jack Horner che è il paleontologo che si è occupato di curare insieme ad altri paleoartisti le ricostruzioni dei dinosauri nel primo Jurassic Park che è quello ispirato al primo romanzo di Michael Crichton allora Jack Horner essendo un paleontologo e essendo che come ha detto giustamente Cesare circa 25 anni fa si è cominciato a capire che molti dinosauri non ricoperti di piume andò da Steven Spielberg dicendogli senti guarda che però vedo il raptor molto probabilmente ci sono delle evidenze che fosse ricoperto di piume e non è escluso che queste piume fossero anche colorate che ci fosse un piumaggio abbastanza come dire vistoso come si fa e Steven Spielberg però disse che non era il caso perché un dinosauro ricoperto di piume non sarebbe stato abbastanza spaventoso ecco quindi dal velocioraptor che in realtà non era grande come era rappresentato in Jurassic Park ma era abbastanza più piccolo è stato rappresentato con la classica rappresentazione dei dinosauri che è quella di un rettile molto molto muscoloso come l'ha descritto qualcuno tra l'altro l'autore di un libro che forse nominerai Enrico che voleva di essere molti dinosauri sono rappresentati muscolosi e con una pelle che sembra quasi è talmente aderente al muscolo che sembra quasi come realizzata con una di quelle pompe sotto vuoto non hanno neanche un filo di grasso i dinosauri non hanno piume non hanno niente sono delle perfette macchine da guerra delle macchine per uccidere e evidentemente Steven Spielberg voleva trasmettere questo il che poi ci dice quanto la rappresentazione è importante per dare al pubblico ma anche a chi si avvicina per la prima volta alla paleontologia e magari pensa di farne una carriera quanto sia importante la rappresentazione nell'idea mentale che ci facciamo non solo dell'aspetto ma anche dell'etologia di questi animali estinti Allora prima di passare a questo livello una domanda un riassunto di domande che sono state poste perché poi a quanto ho capito per chi ci sta seguendo noi non vediamo quello che ci scrivete mi arrivano le domande per lo più tante volte come a quanto ho capito ne state facendo molte vengono un po' riassunte perché sennò dobbiamo stare qua tutta la notte e fatalità qualcuno ha altro da fare penso ma una cosa che secondo me si lega abbastanza a questa parte qua su Jurassic Park è noi abbiamo visto appunto i dinosauri con questa aria da rettili che facevano questi suoni rumori ruggiti cose i colori e i suoni i versi dei dinosauri come se li sono inventati cioè come possiamo saperli cioè li sappiamo o ce li siamo proprio inventati insomma per quanto riguarda i colori mi risulta che in alcuni casi quando sono state trovate tracce di piumaggio nei fossili in alcuni casi è stato possibile identificare una diversa pigmentazione nel piumaggio e quindi anche se non sappiamo il colore esatto che avevano queste piume sappiamo che c'era un qualche tipo di ornamentazione mi sembra delle strisce ma non mi ricordo più in quale caso per quanto riguarda i versi invece mi trovo a i metal os devo chiedere al paleontolo allora per quanto riguarda i versi io so che sono stati fatti degli esperimenti su alcuni dinosauri che hanno delle creste particolari sulla testa perché quelle creste sono cave all'interno e collegate alle narici quindi l'aria passava attraverso questi canali facendo dei giri abbastanza tortuosi ed è stato provato a infilare dell'aria lì dentro per vedere se si producevano dei suoni e si è visto che effettivamente con questo tipo di percorsi si ottenevano dei suoni simili a dei mugiti dei suoni abbastanza profondi che potevano essere usati per comunicazione comunicazione come fanno attualmente tanti animali poi oggi sapendo che i dinosauri e gli uccelli sono molto imparentati tra di loro tendiamo anche a usare gli uccelli come analoghi dei dinosauri e quindi a pensare che potessero emettere dei suoni simili a quelli degli uccelli almeno quelli più piccoli probabilmente erano delle voci che potevano assomigliare a quelli degli uccelli quelli più grandi è un po' più complicato riuscire a ricostruire l'andatura dell'aria all'interno delle cavità però ecco almeno nel caso di questi dinosauri con le creste noi possiamo ricostruire e riprodurre i suoni che potevano eventualmente emettere questi animali e quindi abbiamo qualche elemento un po' più solido rispetto alla semplice analogia con gli uccelli attuali cioè in pratica abbiamo dei dinosauri che avevano uno strumento affiato in testa cioè quello sì una cosa del genere continuano ad arrivare domande allora una cosa una cosa che anche questo credo sia più un riassunto che altro sempre rimanendo su Jurassic Park da lì dall'avvento sul grande schermo soprattutto così impressionante perché immagino che anche voi come me come tanti altri quando avete visto la prima volta il film avete detto wow com'è cambiato per la scienza per gli studi nell'argomento non so il proprio che tipo di variazione c'è stata c'è stato è successo qualcosa conseguentemente a Jurassic Park scusate il giro di parole io credo che Jurassic Park abbia avuto l'incredibile un incredibile impatto in termini di vocazioni e avvicinamento dei giovani alla paleontologia cioè è stato un evento c'è un prima di Jurassic Park e un dopo di Jurassic Park io credo che le immatricolazioni non ho i dati alla mano ma ogni volta che ho parlato di questa cosa con geologi e paleontologi mi hanno detto che il 1994 è stato un anno cruciale per i nuovi iscritti in geologia e chi è stato adolescente o bambino quando è uscito Jurassic Park ne è stato sicuramente influenzato anche io il che appunto ci dice di quanto sia importante la rappresentazione dei dinosauri della scienza in generale nella cultura popolare per influenzare l'opinione pubblica e badate non è stata la prima volta che i dinosauri erano rappresentati ma con Jurassic Park c'è stata la prima volta che è stato offerto al pubblico un modello nuovo di dinosauro di questo animale enorme ed estinto ma molto interessante che si muove veloce che ha un'etologia e una socialità complessa che è un predatore temibile mentre c'è un grande prima in cui i dinosauri erano sempre stati rappresentati come dei grossi lucertoloni lenti a sangue freddo che abitavano fondamentalmente soltanto le paludi e si muovevano con quella andatura tipica del pongo stop motion e certamente non con gli anitronics di speed se posso dire una cosa anch'io allora io sono abbastanza vecchio per ricordarmi bene il prima e il dopo perché ero abbastanza grandicello quando usci Jurassic Park quindi ho ben presente come erano i dinosauri nell'immaginario diciamo cinematografico prima di Jurassic Park erano appunto dei grandi pupazzi che si vedeva chiaramente erano finti anche se ovviamente avevano comunque un loro fascino ma Jurassic Park è stato per la prima volta il film nel quale i dinosauri erano vivi cioè li vedevi e erano veramente dei personaggi non erano dei pupazzi che si muovevano in modo più o meno a scatti erano qualcosa di veramente mai visto prima poi il tipo di rappresentazione dei dinosauri anche se così scattanti era ancora molto legato al di là appunto della storia della consulenza di Baccher che è stato sicuramente lui a fornire il dinamismo ai dinosauri era comunque una rappresentazione ancora quella degli anni 70 per dire la rappresentazione appunto del dinosauro nudo con la pelle poco colorata e non particolarmente attraente e non particolarmente aderente a quello che oggi sappiamo ma allora non lo sapevamo quindi è assolutamente scusabile questa differenza noi non dobbiamo guardarlo con gli occhi di adesso con gli occhi di adesso ci sembra che queste cose siano anche datate ma allora è stato veramente un punto di non ritorno cioè dopo quello è stata tutta un'altra storia e per quanto riguarda appunto le vocazioni chiaramente questo ha avuto un impatto notevolissimo ok facciamo una piccolissima parentesi su questo libretto solo perché io ci sono molto affezionato questo libro qui All Yesterdays quale questo Enrico quel libro lì quel libro lì allora va bene questo è un libro di un paleoartista in realtà credo siano due addirittura vabbè alcuni paleoartisti che che reimmaginano l'immagine appunto dei dinosauri ma reimmaginano anche quello che creature che come vivono con noi ora come ora per esempio il gatto o i cigni come potrebbero essere visti da qualcuno che non sa niente di cosa succede qui adesso arriva tra milioni di anni e trova i fossili e deve ricostruirli quindi si immagina cosa un paleoartista potrebbe fare con quello che c'è di vivo adesso e quindi e il tipo di ragionamento che dovrebbe fare un paleoartista per ricostruire un dinosauro ora come ora ma Veronica cos'è un paleoartista? Un paleoartista è una figura che io trovo molto affascinante perché è proprio un 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 anello di congiunzione fra perfetto fra arte e scienza è una persona che ha delle abilità artistiche si occupa di illustrazione ma anche delle profonde conoscenze in ambito scientifico in particolar modo nell'ambito della paleontologia per quanto riguarda i paleoartisti e un paleoartista il punto che fanno gli autori di questo libro che ha molto affascinato me e Enrico è appunto il fatto che ridurre la ricostruzione paleontologica a solo quello che conosciamo a volte è carente in termini scientifici perché perché è improbabile che i dinosauri e tutti i dinosauri fossero esclusivamente soltanto questo scheletro ricoperto da muscoli scattanti e una pelle sottile verdolina perché queste ricostruzioni non tengono in alcuna considerazione il grasso per esempio e non tengono in alcuna considerazione il pelo o le piume noi vediamo che la maggior parte degli animali che conosciamo invece hanno delle grosse e a volte insospettabili masse di grasso in vari punti pensiamo ai cammelli e dromedari per esempio dai loro soli scheletri sarebbe impossibile immaginare le gobbe dei cammelli e dei dromedari e quindi fa questo simpatico gioco a cui invita anche il lettore a partecipare che è quello di dire immaginiamoci gli animali attuali immaginiamo di essere degli alieni o degli paleontologi del futuro che scoprono gli scheletri degli animali attuali e li devono ricostruire soltanto sulla base degli scheletri e l'esercizio può essere molto interessante per esempio la ricostruzione dei cigni è qualcosa che potrebbe comparire in un libro di Stephen King ma senza sapere nulla dei cigni senza sapere che hanno un piumaggio soffice e bianco il loro modo di vita sarebbe abbastanza difficile ricostruire soprattutto pensiamo con una scarsità di reperti in mano e quindi invita il lettore anche a riflettere sul fatto che sì a volte i paleoartisti sono particolarmente possono essere particolarmente fantasiosi nelle loro ricostruzioni ma questo è un peccato che invita anche a una maggiore riflessione su tutto quello che non sappiamo del modo di vita dell'aspetto stesso di questi animali istinti io voglio citare solo far vedere solo un'altra immagine che è quella del gatto che questo è un gatto detto questo andiamo verso la conclusione mi aggancio a una domanda un'altra domanda che è arrivata che è da una bambina di 31 anni che si chiama Rilu e ci chiede qual è il dinosauro che suscita maggiore curiosità all'interno della comunità scientifica e perché e quindi qua vi chiedo anche proprio che cosa c'è che cosa vuole in pentola per la comunità scientifica però partiamo dalla domanda di Mary Lou allora diciamo che ce ne sono tanti di dinosauri che sono interessanti ma attualmente abbiamo proprio una una scoperta recentissima che è stata appena pubblicata quest'anno che riguarda lo spinosauro spinosauro è uno dei dinosauri più noti perché è il più grande dinosaurio carnivoro che noi conosciamo e si sapeva che era un dinosauro molto particolare ma purtroppo di spinosauro sono stati trovati tantissimi resti incompleti soprattutto denti ma dello scheletro sapevamo in realtà molto poco fino a pochi mesi fa soprattutto intanto sapevamo che il cranio ricorda stranamente quello di un cocodrillo più che quello di un dinosauro e dalla forma del cranio e dalla forma dei denti si era immaginato che potesse essere un dinosauro con abitudini simili a quelle dei coccodrilli che potesse nutrirsi di pesci e che avesse una vita abbastanza legata all'ambiente acquatico quello che non si sapeva invece e che è stato scoperto proprio di recente da un gruppo che comprende anche diversi paleontologi italiani tra cui anche Cristiano Dalsasso che è un paleontologo curatore del museo di storia naturale di Milano che ha lavorato proprio su questo argomento si è scoperto che la coda dello spinosauro era una coda fatta in modo adatto a nuotare cioè la coda dello spinosauro è una coda piatta e alta che veniva utilizzata come un propulsore per nuotare abbastanza velocemente questo non lo si sapeva nelle ricostruzioni dei spinosauro precedenti la coda veniva fatta come quella degli altri dinosauri terapodi e quindi una coda conica puntita normale mentre si è visto che nella coda ci sono queste espansioni verticali spine neurali delle vertebre che sorreggono una coda molto molto ampia immaginate la coda di un coccodrillo anche più anche più estesa in altezza e che questa venisse usata per per nuotare quindi abbiamo l'unico caso finora noto con robuste prove di un dinosauro adattato all'ambiente acquatico perché i dinosauri sono animali tutti i dinosauri che noi conosciamo sono animali essenzialmente terrestri gli animali marini rettili marini e rettili volanti i rettili volanti abbiamo visto sono gli pterosauri che sono imparentati con i dinosauri ma molto alla lontana e i rettili marini invece sono tutto un altro gruppo che anzi sono altri diversi altri gruppi che non hanno niente a che vedere con i dinosauri lo spinosauro è il primo dinosauro con adattamenti specifici alla vita acquatica che noi conosciamo e questo lo sappiamo da pochissimo tempo e quindi insomma sullo spinosauro c'è da dire probabilmente come dicevi ce ne sono tanti altri e può darsi che scopriamo anche delle altre cose adesso tante cose vengono avanti se la maggior parte dei dinosauri non l'abbiamo ancora scoperta come dicevamo prima ci sarà sempre qualcosa di nuovo c'è spazio vado verso la chiusura con un'ultima domanda che ci arriva che mi sembra anche un buono spunto per chiudere Gianluca Barbetti ci chiede ci dice mi sono appassionato ai dinosauri con le videocassette di Piero Angela che abbiamo qui Piero Angela il pianeta dei dinosauri potreste consigliare altri programmi simili da recuperare secondo me anche qualche libro magari di divulgazione però soprattutto i programmi perché chiaramente li puoi vedere che si muovono difficile abbastanza ok proviamo quei libri no vai Cesare volevo solo dire che il pianeta dei dinosauri è un'altra pietra miliare nella storia dei dinosauri in Italia il pianeta dei dinosauri ha avuto un impatto che può essere paragonato a quello di Jurassic Park è uscito più o meno nello stesso periodo e ha avuto anche quello una grande importanza nell'aumentare la percezione dei dinosauri nel grande pubblico perché i programmi di Piero Angela li hanno visti tutti anche quelli che non andavano al cinema a vedere Jurassic Park quindi adesso consigliare qualcosa di video per me è particolarmente difficile perché non so ci sono tante cose ormai su Youtube ci sono tanti canali che fanno appunto opere di divulgazione e di che riguardano i dinosauri però non mi viene in mente niente in particolare Veronica io sposto colgo la palla al balzo e pur non conoscendo materiale video adatto dico di visitare questo in questo tempo strano molti stupendi musei stanno mettendo in rete del materiale superlativo sui dinosauri e a me viene in mente il mio museo preferito in tutto l'universo che è il Museum of the Earth di Itaca che è il risultato fra i migliori dieci musei virtuali nelle prime settimane della pandemia e ha dell'ottimo materiale da scaricare da visionare delle belle attività da fare anche con i bambini e del buon materiale anche per adulti da leggere da consultare anche perché stanno rendendo tra l'altro disponibile online tutte le loro collezioni quindi non soltanto il materiale che è esposto al museo quindi queste e quello che vale per il Museum of the Earth e Paleontological Research Institution di Itaca vale anche per tantissimi altri musei del mondo che stanno facendo un super lavoro in termini di mettere a disposizione il materiale anche il materiale fisico che insomma io amo gli oggetti io non amo particolarmente non amo particolarmente YouTube ma amo gli oggetti amo mostrare gli oggetti amo toccare gli oggetti quindi anche in questo momento in cui purtroppo non possiamo entrare nei musei ci sono musei che stanno rendendo le loro collezioni consultabili al massimo anche nell'impossibilità di poterle toccare quindi io consiglio vivamente di andare per musei anche se non ci si può andare fisicamente se posso dire un'ultima cosa a proposito di musei che vale la pena di visitare io consiglio sicuramente il museo di storia naturale di Milano che è uno dei migliori che abbiamo in Italia il museo capellini di Bologna museo universitario molto bello e anche questo è risistemato in un certo modo che contiene dei pezzi veramente unici e anche il museo di storia naturale di Firenze dove c'è non c'entra niente con i dinosauri ma c'è una bellissima sala dedicata alle balene fossili che consiglio tutti quanti di andare a vedere perché purtroppo mi dicono che ci va pochissima gente e questo può essere un valore aggiunto nel senso che se ci andate ve lo potete gustare bene c'è un'ambientazione modernissima è stata fatta questa sala della balena al museo di Firenze da poco tempo e vale veramente la pena di andarci perfetto anche questi sono tutti bei suggerimenti di Youtube a me non viene in mente molto anche se mi piace però ho visto fatalità proprio in questi giorni il video di Zoar Sparkle dove rispondeva al noto cantante il cellino San Marco il cellino San Marco e lui parla anche in altre occasioni di dinosauri quindi anche Zoar Sparkle sicuramente interessante da seguire e vi ringrazio ancora Veronica e Cesare per questa serata mi spiace perché so che abbiamo solo grattato la superficie non abbiamo potuto approfondire fondamentalmente nulla lancio per la prossima settimana per chi ci sta seguendo l'appuntamento con Federica Osti di MySkin dove parleremo di solari e accortezze per passare l'estate in sicurezza io direi che oltre a ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito che ci hanno fatto domande tutto il pubblico giovane che di solito non ci fa queste domande e peraltro così interessanti ringraziare di nuovo voi due posso solo augurare la buonanotte a tutti e a presto buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti